Agli albori di questo canale, quando ho cominciato a mettere video online, ormai 9, anzi quasi 10 anni fa, spesso, molto spesso, recitavo poesie in video. Erano video che non vedeva nessuno, assolutamente nessuno, io mi beavo, mi entusiasmavo per risultati che oggi mi sembrerebbero delle catastrofi, mi ricordo insomma. L'ultimo video, dopo solo una settimana, ha già 150 visualizzazioni, non male per una poesia. C'erano dei problemi oggettivi, vabbè forse anche YouTube non era così maturo, così sviluppato come oggi, però la mia qualità video era pessima, la mia qualità audio era pessima, non che sia andato tanto lontano, però insomma, ma anche io ero molto acerbo, c'erano in quei video delle lungaggini, dei tempi morti, francamente inutili, e poi una grandissima ingenuità, una grandissima ingenuità, perché voglio dire, tu puoi fare un video dove reciti una poesia, ma almeno prova a fare in modo che ci sia un titolo un po' allettante, un po' accattivante, cioè cosa metti nel titolo il nome del poeta? Ci sono questi vecchi video con questi titoli, Tadeusz Ruziewicz, ho capito, ma vabbè. Però ultimamente ho provato così un po' di sottecchi timidamente a recitare qualche poesia e ho avuto un riscontro veramente incoraggiante, in tanti mi avete scritto, ma che bello che è quando leggi le poesie, ma che bella che è la poesia, bello il video, ma poi quando reciti le poesie è ancora più bello, allora mi sono detto, vabbè, allora riproviamoci, allora torniamo agli antichi splendori, proviamo a recitare qualche poesia. dunque pensavo di tracciare un filo rosso, insomma, di avere un tema comune, che è questo. A me piace quando la poesia ritrae la donna in modo non convenzionale, in modo non edulcorato, non supino agli stereotipi e mi piace anche quando la donna rappresenta se stessa e la sua condizione in modo da cozzare contro i luoghi comuni, in modo anche polemico, ironico, urticante, sarcastico. Mi piace. Allora, vediamo un po' una carrellata di poesie d'amore o poesie sulle donne e sulla femminilità non convenzionali. Partiamo da una cosa meravigliosa, l'antologia palatina. Voi sapete, l'antologia palatina è questa raccolta, redatta nel X secolo d.C., ma che raccoglie epigrammi di lirici greci in un arco temporale molto ampio, dal VI secolo a.C. al VI d.C., insomma, è divisa in libri. Ogni libro è un tema. Il libro quinto è dedicato alle poesie d'amore verso le donne, perché poi c'è il libro dodicesimo che è dedicato alle poesie d'amore verso gli uomini. Sono poesie bellissime perché sono di un amore che è carnale, che è terreno e terrestre, ma allo stesso tempo è altissimo, è etereo, è lirico appunto. E con grande grazia, con grande eleganza e semplicità, queste due caratteristiche che apparentemente sono estreme invece sono in comunione. sentite questa poesia, l'autore è un tal Paolo Silenziario, che spezza un luogo comune, perché solitamente le donne ritratte dalla pittura, dalla fotografia, dalla letteratura sono giovani, sempre giovani, belle, giovani. No, qui c'è una poesia d'amore e di passione, non d'amore platonico, d'amore e di passione per una donna non più giovane. Ma sentite che grazia, che eleganza, che delicatezza, pur carnale. preferisco le tue rughe, Filinna, al fiore di tutta la giovinezza, amo tenere fra le mie mani i tuoi seni, tremolanti in punta, piuttosto che i seni tutti ritti di una ragazzina. Il tuo crepuscolo vale più della sua primavera, il tuo inverno è più caldo dell'estate di altre. E poi c'è un'altra poesia che mi piace tantissimo, l'autore è un tal Marco Argentario, per una ragazza che ha, insomma, una cosa che era ritenuta evidentemente all'epoca quasi un difetto fisico, è troppo magra. Ora noi abbiamo perso la categoria del troppo magro, perché oggi le persone tediose si scagliano insomma, a stigmatizzare il fatto che una persona abbia qualche chilo in più, sia leggermente sovrappeso, però evidentemente qui era ritenuto un difetto, l'eccessiva magrezza. C'è un ma che lo rivela. Vedrai la scarna di Oclea, un'afrodite di pelle e ossa, ma tutta bella nei suoi buoni costumi. Non ci sarà molto in mezzo a noi, sul fragile petto giacerò vicino, vicinissimo alla sua anima. E poi, Viesuola Szymborska, grande poetessa, grandissima poetessa, ha vinto il premio Nobel per la letteratura nel 1996 e c'è questa poesia che si chiama Ritratto di Donna, che insomma, dileggia, prende in giro gli uomini e i loro stereotipi e la loro pretesa che una donna debba essere come pare a loro, tanto più che, come mostra lei, insomma le richieste sono abbastanza disordinate, in contraddizione abbastanza schizofreniche, quindi la donna è come vuole lei, non come tu desideri, non deve accontentare le tue fantasie una donna. Questo, insomma, sembra dire, Viesuola Szymborska, Ritratto di Donna. Deve essere a scelta, cambiare, purché niente cambi, è facile, è impossibile, difficile, ne vale la pena. Agli occhi si occorre ora azzurri, ora grigi, neri, allegri, senza motivo, pieni di lacrime. Dorme con lui come la prima venuta, l'unica al mondo. Gli darà quattro figli, nessuno, uno, ingenua. Ma è un'ottima consigliera, debole, ma sosterrà. Non ha la testa sulle spalle, però l'avrà. Legge Jaspers e le riviste femminili. Non sa cosa serva questa vite e costruirà un ponte. Giovane, come al solito, giovane, sempre, ancora, giovane. Tiene nelle mani un passero con l'ala spezzata, soldi suoi per un viaggio lungo e lontano, una mezzaluna, un impacco, un bicchierino di vodka. Dov'è che corre? Non sarà stanca? Ma no, solo un poco, molto. Non importa. O lo ama, o si è intestradita. Nel bene, nel male e per l'amor del cielo. Poi passerei a un altro poeta, Charles Bukowski, è di origine polacca. Il padre era di origine polacca, anche se lui è nato in Germania, poi ha vissuto a Los Angeles, negli Stati Uniti. E qui c'è una poesia d'amore, di tenerezza, come dire, anche questa, non totalmente conformista. Si chiama semplicemente Donna che dorme. Dice così. Di notte mi siedo sul letto e t'ascolto. Rossare. T'ho incontrata in un'autostazione. E ora guardo con stupore la tua schiena, bianca fino alla nausea e macchiata di lentiggini infantili, mentre il lume rovescia l'insolubile dolore del mondo sul tuo sonno. Non posso vedere i tuoi piedi, ma devo credere che sono piedini deliziosi. A chi appartieni? Sei vera. Penso a fiori, animali, uccelli. Sembrano tutti più che buoni e così chiaramente reali. Ma non puoi fare a meno di essere una donna. Siamo tutti destinati a essere qualcosa. Il ragno, la cuoca, l'elefante. E' come se ciascuno fosse un quadro appeso al muro di qualche galleria. E ora il quadro si gira sulla schiena. E sopra il gomito piegato posso vedere mezza bocca, un occhio, quasi un naso. Il resto di te è nascosto, invisibile. Ma io so che sei un'opera moderna, contemporanea, forse non immortale. Però ci siamo amati. Ti prego, continua a russare. Mi sembra bellissima. Mi sembra bellissima. Ridiamo parola alle donne. Io volevo recitarvi una poesia breve, breve, però deliziosamente ironica, di una mia amica che si chiama Alessandra Racca e che è un'autrice che ammiro tantissimo. Al di là dell'affetto, proprio del fatto che siamo amici realmente. Lei è di Torino. Io ho tanti amici a Torino. Ho tanti amici a Torino. È in assoluto la città fuori dalla Romagna dove conosco più persone. dove ho più amicizie. E dicevo, al di là dell'amicizia, ho una sincera ammirazione. Perché è veramente un'autrice in gamba, una scrittrice in gamba, una poetessa meravigliosa, una persona di straordinaria intelligenza, ma non solo nella poesia. Io ho avuto la fortuna di vedere un suo monologo di narrazione che si chiama La forma del mistero è una tettoia. Lei non fa teatro professionalmente, non fa teatro tutti i giorni, ma quello era un monologo di narrazione splendido. Proprio splendido. Qualunque cosa faccia, lei la fa bene. Le riesce. Le riesce con abilità, con intelligenza. Insomma, cercavo questa poesia, non la trovavo. Non la trovavo nei suoi libri, nonostante io abbia tutti i libri di Alessandra Racca, poesi antirughe, su titoli bellissimi. L'amore non si cura con la citrozzodina, non c'è. Allora forse è qua? Consigli di volo per bipedi pesanti, non c'è. Allora forse è qua? Nostra signora dei calzini, non era neanche qua. Poi ho scoperto, perché non la trovavo, ho cercato in internet, ho capito. Mi sono ricordato che è stata pubblicata in una raccolta di poesie collettive, collettiva, la raccolta, di poesie tutte al femminile che si chiama Bastarde senza gloria. Non ce l'ho, non ce l'ho, me la devo procurare. È una poesia che si intitola Invettiva contro la depilazione. Invettiva contro la depilazione in cui lei parla di questo rapporto così contraddittorio dalla parte l'odio, ma dall'altra parte forse i canoni estetici imposti l'hanno così condizionata che anche lei ve la leggo. Invettiva contro la depilazione. Sei violenta, è innaturale, è inutile, e non riesco a fare a meno di te. Ti odio, perché mi piaccio come piaccio a questo secolo. Liscia, ma sappi, puoi cambiare il mio corpo, non me. Ho un'anima villosa, sempre ricrescerà. Bellissimo, bellissimo. E poi volevo finire con una poesia di un'altra poetessa che conosco di persona grande, grande. Si chiama Francesca Gironi, scrive poesie bellissime. Non ho la fortuna di frequentarla spesso come, di vederla spesso come invece vedo Alessandra, però lei ha scritto una poesia stupenda. di Francesca ho solo questo libro, Abbattere i costi, molto bello. Questa è una poesia, credo che sia una poesia inedita, è segnalata in internet come poesia inedita, ve la leggo. È una poesia sulle donne e sui luoghi comuni sulle donne. Si chiama Le femmine sono stupende. Dice così. Le femmine sono stupende. Le femmine sono tacche nei quaderni dei ragazzi. Le femmine fanno bene all'ego. Le femmine sono belle e anche intelligenti. Le femmine sono un pericolo costante, non solo al volante. Ti incastrano. Tirano più di un carro di buoi. Le femmine sono organi genitali, bei pezzi di organi genitali e anche ortaggi. Le femmine la danno o non la danno. Donne danno, fanno l'uomo e lo disfanno. Le femmine sono come la birra, un colore per ogni gusto. Le femmine sono costole, sesso debole. Le femmine sono misurabili nelle pubblicità di letti, motori, gioie, dolori. Ma io conosco femmine che lavorano nei call center delle assicurazioni e crescono bambini sole, che percorrono chilometri a piedi sulla cresta dei monti appalacchi e non hanno paura di dormire nel bosco di notte, che si lanciano da trapezzi e pareti, camminano sul filo e insegnano circo ai detenuti, che hanno abortito, che non hanno abortito, che amano donne, che amano uomini, che soffiano sulle girandole e parlano coi fiori, che girano il Sud America sole, ma la notte tornano in taxi per timore degli assalitori, che dicono sì per dire sì e no per dire no, che combattono nei reparti pediatrici di malattie spesso incurabili e se ne fregano dei capelli bianchi, che per sopravvivere si sono tolte entrambi i segni e sono amazzoni travestite da avvocati, che si fotografano con la parrucca rosa in testa dopo l'acchemio, poi partoriscono una bimba, la chiamano Dora, come la nonna, che vivono ad occhi aperti, amano a piene mani e sono femmine stupende, di debole, non hanno proprio niente.